Comunque Maria è stupenda, è bellissima, bravissima, ma poi anche nel monologo che ha fatto, no, che si lamenta sempre un po' che c'è qualche chilo in più, ma chi se ne frega, ma siamo nell'epoca totale del body positivity, ma non conta niente. Il caldo Francesco De Carlo si è inquartato. Quello, lo conosco da 15 anni, ma sembra un chiantato forte.